Bene, buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa, la prima conferenza stampa del Sinodo Valdo Metodista. Abbiamo alcuni ospiti, noi ringraziamo anche Radio Bequit che sta mandando in diretta la conferenza stampa di oggi, l'ufficio stampa NEV che cura per il Sinodo tutti i lavori sinodali dal punto di vista della comunicazione. Il tema della conferenza stampa di oggi è la presentazione della serata pubblica di stasera da una parte e dall'altra il tema principale che è quello appunto delle chiese, le chiese multietniche, l'integrazione, quindi il ruolo che le chiese valdesi e metodiste, in generale le chiese protestanti, hanno nella società italiana rispetto appunto al tema dell'integrazione, del dialogo e dell'accoglienza. Abbiamo con noi alcuni ospiti, il professor Paolo Naso che è coordinatore della commissione studi della federazione delle chiese evangeliche, ma non solo, anche, diciamo, si occupa di essere chiese insieme, il progetto della federazione delle chiese evangeliche. Il professor Jan Redalier, alla mia destra, decano della facoltà valdese di teologia. Alla mia destra sempre Marta Bernardini, che è la vice segretaria della federazione giovanile evangelica italiana, e quindi è un piacere averla con noi, è la pastora Anne Zell, qui alla mia sinistra. Grazie dunque per essere intervenuti oggi. Anne Zell rappresenta, tra l'altro, una comunità molto multietnica, una comunità molto impegnata anche sul dialogo dell'accoglienza, dell'incontro e dell'integrazione. Ed è proprio da Anne Zell che io vorrei iniziare e darle la parola per raccontarci qual è l'esperienza della sua chiesa, del suo ministero pastorale in questo senso. Allora, Prescia è una chiesa fortemente campiata, trasformata dall'integrazione di fratelli e sorelle provenienti da varie chiese, soprattutto dell'Africa. Fino a 15 anni fa è stata una di queste chiese che quasi si diceva, ma andrà avanti la sua sorte, la sua storia, una cinquantina di persone, soprattutto anziane, e poi con l'onda di immigrazione sono arrivati in ricerca della loro chiesa, fratelli e sorelle, soprattutto di provenienza metodista, soprattutto dal Ghana, ma anche di chiese prespiteriane, e hanno costretta, vorrei dire, proprio costretta, la chiesa, la comunità, di confrontarsi con un altro modo di attesa, di concepire la fede, la spiritualità. Oggi Brescia conta una forte presenza, anzi è la maggioranza delle sorelle e dei fratelli della nostra comunità, che provengono appunto da altre esperienze, da altre storie, da un'altra cultura di fede. Come ci si può immaginare è un cammino non in dolore, di confronto, a volte anche di scontro, di mediazione, di aperture, ma da entrambe le parti, perché ovviamente non è possibile chiedere semplicemente l'assimiliazione di chi viene da noi, ma viene messo in gioco, in questione, anche qualche nostra tradizione, abitudine troppo fossilizzata ormai. Questo ha fatto sì che sicuramente la comunità è cresciuta, e non soltanto è anche diventata più visibile all'interno del tessuto cittadino, anche se a volte succedono cose bizzarre, per esempio una signora diceva ma c'è ancora la chiesa qui, fate ancora dei culti, ho visto entrare dei negri qui. Perciò questo specchia molto questo preconcetto che prima gli immigrati non sono cristiani e secondo c'è questa, sì, l'incapacità di immaginarsi che la nostra tradizione cristiana vuole anche dire questo, cioè tener conto di altre storie di fede, di spiritualità e che anzi, venendo da altre esperienze, queste sorelle, questi fratelli ci portano nuove aperture, nuove sfide, soprattutto nuove possibilità di concepire la fede. Le sfide sono tante e perciò ovviamente bisogna mettersi in rete perché francamente noi pastori, pastore nella nostra formazione ovviamente non sapevamo niente di questa sfida che ci aspettava. Perciò è tutto nuovo, tutto da acquisire anche in un percorso molto sperimentale e abbiamo cercato appunto di creare all'interno delle nostre chiese prima e adesso anche in collaborazione con le chiese della federazione dei percorsi di formazione, di confronto, di dialogo proprio per vivere meglio e per vivere su serio una integrazione nelle nostre chiese che sono percorsi di formazione ovviamente non per chi viene da noi per capire meglio come diventare credenti in chiese valdesi e metodiste ma percorsi direi per tutti noi che vogliamo seriamente non soltanto nelle nostre chiese ma nella nostra società vivere non la multicultura ma l'intercultura cioè il dialogo, l'arricchimento reciproco senza nascondersi le difficoltà. Grazie Passoran Zell Tra l'altro la serata di cui accennavo prima, quella di stasera la serata pubblica che è un evento pubblico a margine del sinodo valdometodista avrà un titolo particolare che è questo Santa ignoranza agli italiani, il pluralismo delle fedi e l'analfabetismo religioso La tavola valdese ogni anno commissiona tra l'altro attraverso i fondi dell'otto per mille una ricerca all'eurisco proprio sul fatto religioso e il professor Naso questa sera anche in occasione dell'incontro pubblico che tra l'altro vedrà anche la partecipazione del ministro Cecil Chienge ministro molto gettonato purtroppo in questo periodo in Italia ma ovviamente non per questioni che ci fanno onore come nazione italiana però sarà con noi tra l'altro il ministro Chienge alla delega al dialogo interreligioso quindi è un appuntamento importante questa sera il professor Naso ha sviluppato o comunque attraverso questi dati dell'eurisco cioè insomma ci potrà dare informazioni dettagliate su quelli che sono i risultati ottenuti da questa indagine e do a lui la parola Grazie L'inchiesta conferma alcune cose note gli italiani amano i cattolici il 92% delle persone alle quali si chiede qual è la tua appartenenza religiosa senza se e senza ma rispondono cattolici è un dato molto alto se paragonato anche ad altre società di tradizione cattolica penso per esempio alla Spagna quindi c'è un forte richiamo identitario però questa volta abbiamo voluto un po' scavare e cioè abbiamo voluto capire che tipo di cattolici siano gli italiani allora sono cattolici che non leggono la Bibbia perché il 70 e passa per cento degli italiani dice di non aver mai preso la Bibbia in mano mai preso la Bibbia in mano cioè c'è un rapporto con la Bibbia legato esclusivamente quando c'è alla fruizione liturgica gli italiani lo sappiamo vanno poco a Messa ormai il tasso di regolarità la precetto insisto un precetto per chi si dice cattolico della Messa Domenicale è all'11,3% quindi c'è un barato dal punto di vista della partecipazione attiva alla pratica religiosa ma quello che emerge è l'analfabetismo religioso e credo che non ci siano altre parole che è l'analfabetismo religioso quando si vede che alla domanda chi ha scritto la Bibbia chi ha scritto la Bibbia quasi il 30% degli italiani dice Mosè un altro 30% degli italiani dice Gesù Gesù per il 30% degli italiani ha scritto la Bibbia e coloro che sono in grado di citare correttamente i quattro evangelisti non arrivano al 30% la percentuale di coloro che frequentano attività di tipo catechistico sta crollando tuttavia coloro che sono in grado di indicare il caposaldo di qualsiasi teologia il corso di catechismo cattolico cioè le tre virtù teologali ecco coloro che sono in grado di dire fede, speranza e carità non arrivano al 17% di coloro che hanno frequentato questi corsi pochissimi sanno dire se Gesù viene primo dopo Mosè Abramo primo dopo Noè la percentuale di coloro che riescono a mettere in ordine cronologico Noè, Abramo, Mosè e Gesù è inferiore al 16% sui dieci comandamenti c'è la debacle più assoluta nel senso che soltanto il 41% riesce a ricordarne almeno uno uno, non due, uno per il resto neanche quello c'è una percentuale di eccellenza di persone che seppure in una forma approssimativa li sanno ricordare tutti i dieci questa percentuale arriva all'1,6% cioè l'1,6% degli italiani ha contezza dei dieci comandamenti quelli che non si ricordano sono quelli importanti e quelli che si ricordano come potete facilmente immaginare sono quelli più ovvi non uccidere, non rubare e non commettere adulterio che l'Italia tiene sempre bene per così dire il dramma è che tutto questo da parte di italiani che all'87% mandano i figli all'insegnamento iscrivono i figli all'insegnamento religioso confessionale e però va anche detto che la scuola non sembra funzionare perché quando poi gli chiediamo le informazioni sulle altre religioni da dove le hai prese e allora viene fuori che i media sono il 29% cioè quasi tre persone su dieci imparano qualcosa sulle altre religioni attraverso i media la scuola e l'università fanno pessima figura perché soltanto il 25% quindi uno su quattro come dire impara qualcosa sulle religioni altre a scuola e l'università il luogo in cui almeno all'inapparenza sulla base di questo sondaggio si impara di più sulle altre religioni e la parrocchia che è un elemento credo di grande interesse detto questo abbiamo voluto vedere anche poi alla fine sì sono ignoranti ma come si comportano su temi eticamente sensibili e anche qui la sorpresa è alta gli italiani al 63% sono favorevoli senza sé senza ma all'apertura delle moschee il 63% è aperto e pronto al riconoscimento legale delle coppie omosessuali il 75% quasi è favorevole a una legge sul testamento biologico il 65% è favorevole all'inseminazione eterologa quindi come dire cattolici ignoranti analfabeti eticamente individualisti cioè alla fine si comportano come il diciamo il caso suggerisce loro da qui possiamo ricavare come dire un profilo che ci fa parlare di cattolici confusi post secolarizzati perché amano misurarsi sui temi religiosi molto individualisti e molto selettivi nel loro essere cattolici l'ultima parola la voglio dire perché che cosa c'entra questo col tema dell'integrazione c'entra moltissimo l'analfabetismo religioso in una società multiculturale è un veicolo di discriminazione e di razzismo cioè non sapere oggi chi è un cattolico e quindi a maggior ragione non sapere chi è un musulmano perché è un ragazzo testimone di Giova si comporta in un certo modo un ragazzo si comporta in un atto non sapere queste cose costruire un pregiudizio su queste cose è un viatico molto ampio e solido nei confronti di forme di discriminazione e di razzismo e quindi mi collego a quello che diceva la pastora Zell io credo che le comunità di fede le chiese per quel che riguarda gli evangelici hanno un ruolo nell'essere laboratori di integrazione però non commettiamo l'errore di affidare alle chiese e alle comunità di fede un ruolo di supplenza cioè l'alfabetizzazione religiosa non riguarda chi crede in questa chiave essendo una strategia un viatico per l'integrazione e la sabbatizzazione religiosa deve riguardare allo stesso modo chi crede e chi non crede le comunità di fede e le istituzioni per quel che ci riguarda dello Stato italiano grazie professor Naso io credo che debba riguardare anche l'informazione in generale noi in Italia abbiamo problemi in merito noi abbiamo in Italia la figura del vaticanista non abbiamo l'informatore religioso di religioni si parla poco nei nostri media italiani e quando lo si fa ovviamente si parla spesso della religione di prevalenza che è la religione cattolica e questo genera come diceva il professor Naso poi tutta una serie di problemi di confusione però insomma ci si muove e la federazione giovanile evangelica italiana lo fa i giovani i giovani evangelici si interrogano spesso creano campi ad hoc su questi temi ed è proprio a Marta Bernardini che voglio dare la parola per raccontarci che cosa fanno nello specifico sì grazie ma io continuo un po' sulla linea che è stata espressa fino adesso cioè che la chiesa è effettivamente un luogo di integrazione e penso che per i giovani sia un ottimo luogo di integrazione e anzi sono gli stessi giovani a spingere perché questo diventi un luogo per tutti e tutte e anche per i genitori per chi è più grande e quindi è più difficoltà a comprendere una società così variegata come quella che è la società italiana oggi e la federazione giovanile evangelica italiana si impegna in questo senso non tanto perché un giorno ha deciso che voleva essere interculturale ma perché lo è già e quindi ha semplicemente guardato se stessa e si accorta che i giovani che partecipano alla vita delle chiese sono i giovani italiani sono le giovani italiane e quindi noi tendenzialmente non parliamo delle seconde generazioni quindi dei figli delle figlie di immigrati a noi piace parlare di una generazione di italiani e di italiane è questo che noi vorremmo poter dire senza problemi alle nostre chiese e alla nostra società e quindi i campi che facciamo sono dei momenti di incontro di confronto di condivisione e sono momenti in cui noi già ci confrontiamo rispetto alle nostre esperienze le nostre storie di vita che possono essere diverse abbiamo italiani italiane nati in Italia o che sono arrivate in giovane età che parlano senza problemi in italiano anzi parlano il dialetto veneziano il dialetto romano insomma per noi questo non è assolutamente un problema anzi è un momento di arricchimento e quindi ci piace anche pensare che i nostri giovani siano quelli che già oggi traghettano i genitori o gli altri membri delle nostre chiese verso un modello di integrazione attivo partecipativo anche nella società e tante sono le storie dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che combattono con i loro genitori per poter venire in chiesa allora quando i nostri giovani devono litigare con i propri genitori per riuscire ad andare con altre italiane e italiane in chiesa forse bisogna interrogarsi così come per uscire con i compagni di scuola o per voler fare delle professioni da spendere poi in Italia quindi molti vogliono studiare medicina e alcuni magari vogliono tornare in camera un altro vogliono essere i nostri futuri medici italiani allora noi vorremmo riflettere su questi argomenti e soprattutto far capire che i giovani sono già attivi in questo argomento e sono molto preparati allora magari ci piacerebbe essere ascoltati avere modo di parlare di raccontare anche le nostre storie grazie grazie Marta Bernardini ed ora la parola a Jan Redalier Jan Redalier è il decano della facoltà valdese di teologia è la facoltà che forma i futuri pastori dal punto di vista teologico dal punto di vista pastorale quanto appunto questa didattica anche importante quanto passa anche all'interno della facoltà e quanto le chiese protestanti fanno appunto per l'integrazione oggi grazie allora diciamo che la facoltà nella formazione dei pastori al quale si riferiva anche Anne Zellan diciamo non siamo stati formati a questo direi che anche all'inizio sulla formazione dei pastori attualmente direi fa troppo poco e cerchiamo di far di più per esempio avverrà anche quest'anno un professor di Acra per introdurre anche le African Studies cioè di dire l'antropologia vista dall'Africa la teologia vista dall'Africa e delle cose allora questo dobbiamo introdurre l'altra cosa io credo che è importante e questo lo facciamo nella formazione di questi responsabili di comunità come dire a vocazione di mediatori culturali con il programma della federazione che si chiama l'Infa dove ormai abbiamo un certo numero di anni di esperienza e che questa esperienza di formazione di gente è una formazione nostra perché lì scopriamo i problemi le questioni delicate da trattare e come dire le questioni conflittuali su l'etica l'etica sessuale l'etica della coppia su come dire i rapporti di famiglia e vediamo bene anche da quello che ha detto Marta che l'interculturale è anche intergenerazionale e che la questione è come i figli diventano dei mediatori culturali e non soltanto dei grandi come dire dei grandi oggetti di angoscia cioè la questione del generation gap nell'immigrazione ci dicevano i nostri colleghi pastori che vengono dal Ghana per esempio è la preoccupazione principale degli immigrati perdere i figli cosa vuol dire perdere i figli che perdono i valori i riferimenti i comportamenti che vengono dalla tradizione delle loro chiese africane allora lì abbiamo certamente come dire non soltanto un conflitto ma una cosa molto delicata da rispettare allora forse le chiese sono un luogo privilegiato perché come dire essendo una comunità nel tempo cioè che vive delle storie con dell'evoluzione può affrontare queste non soltanto l'immigrazione come problema astratto o l'immigrato ma vede che ci sono delle vite personali delle famiglie dove si gioca anche a secondo delle personalità perché tutti gli immigrati sono delle persone complicate e particolari come ciascuno di noi e allora di vedere come dire nell'evoluzione della storia costruita che appunto l'integrazione è una storia è una storia vissuta da ciascuno e che l'immigrato che è arrivato sei mesi fa o l'immigrato che è già da vent'anni qui hanno delle storie diverse delle esigenze diverse delle reazioni diverse e che noi impariamo nelle comunità sono un luogo appunto di anche di apprendimento di queste cose e io credo io credo questo è sempre stato credo in tutta la storia religiosa che i modelli ecclesiali hanno sempre avuto delle influenze sui modelli politici cioè non è a caso se i modelli federali si ritrovano in Germania in Svizzera negli Stati Uniti che avevano dell'ecclesiologia dove la comunità locale era molto forte allora io credo che laddove nelle nostre comunità come dire la la comunità vive veramente la comunità propone alla società una socialità nuova che è molto attraente e questo e questo l'abbiamo vissuto nei migliori momenti in certe comunità io penso nella storia della comunità di Bologna dove arrivano giovani italiani perché sono affascinato di questa nuova socialità che ha una creatività espressiva con la musica con la ma anche una vita di espressione della fede molto come dire vivace molto molto nuova e così dunque io credo che la sfida è che le nostre chiese siano in grado di presentare una socialità nuova rinnovata che sa affrontare le conflittualità allora è chiaro che non possiamo imporre come dire l'intercultura vissuta domani già e io credo che il tempo lasciato al come dire al vissuto delle origini è molto importante questa era un'esperienza che era fatto nei corsi di alfabetizzazione in Francia dove per fare imparare più velocemente a piccoli portoghesi il francese si viettava di parlare il portoghese e non imparavano il francese poi uno ha detto ma lasciamole parlare il portoghese e da quando hanno partito parlare il portoghese hanno imparato il francese dunque io voglio dire l'integrazione non può essere mai forzata cioè non può farti perdere la fiducia che tu che mi vuoi integrare mi vuoi fare perdere la mia radice allora io credo che questo è un'esperienza che facciamo su scala come dire di tutte le nostre comunità nazionali che c'è una richiesta lasciateci parlare anche in tui cioè nella lingua per esempio di ganese e non obbligateci a parlare sempre non so in inglese o nelle lingue coloniale o in italiano e che se ti lasciamo parlare in tui forse allora sarai interessato a comunicare non so se questo è un rapporto di fiducia allora per la facoltà questa è un'esperienza che facciamo in queste formazioni per la facoltà adesso è di come dire far risalire questa esperienza e dargli una come dire una forza e degli elementi in grado di di dare le chiave le chiave interpretativa ai futuri pastori ai futuri responsabili perché alla facoltà non formiamo soltanto pastori abbiamo questo corso di laurea trienale che si può fare a distanza dove sono 200 più di 200 studenti che non faranno i pastori ma che diffondono una certa cultura di responsabilità come dire dar delle chiave per interpretare in modo forte il cammino il cammino verso un'integrazione vera grazie allora professor Dallier alcuni temi alcune parole chiave dunque una sfida per le chiese evangeliche una sfida perché appunto le chiese evangeliche sono sempre più multietniche quindi un punto interrogativo nel senso che anche noi come chiese stiamo imparando ci stiamo adeguando stiamo cercando di far capire insomma il ministro Riccardi all'epoca l'ex ministro per l'integrazione aveva messo in piedi questa commissione religioni cultura integrazione proprio perché attraverso le varie chiese passa anche l'integrazione quindi il senso anche qui la parola del professore Dallier è la responsabilità il fatto di dare in mano le chiavi anche per l'integrazione a queste chiese io chiederei ai giornalisti presenti se hanno delle domande e gli passerei ovviamente la parola se possono parlare al microfono e dire nome e cognome eventualmente la testata è interessante qualcuno ha qualche domanda? Daniele Argittu leco del chisone lo dico io prego cerco di esprimermi in modo più corretto perché l'argomento è molto delicato e vi chiedo scusa preventivamente se magari utilizzerò dei termini impropri io ho sempre ammirato molto la chiesa valdese per la sua capacità contestuale contemporanea di essere molto aperta all'Europa questo storicamente e al contempo di difendere la sua identità un'identità molto forte un'identità di minoranza che ha subito non pensiamo più alle violenze per fortuna che sono passate da molto tempo ma quantomeno anche un tentativo di coercizione culturale possiamo definirla in un mondo come quello che prima diceva il professor Naso caratterizzato da un'appartenenza diffusa alla confessione cattolica anche se magari non così consapevole ecco questo dualismo questa capacità di coniugare queste due cose apparentemente in contraddizione potrebbe diventare più difficile da applicare oggi quando l'altro non è magari il nord europeo più affine per cultura e per religione ma sono persone che giungono comunque da contesti diversi e quindi mi chiedevo come si possa fare a mantenere questa doppia cosa domanda interessantissima ne raccogliamo altre Antonio Giaimo la stampa nel percorso di integrazione che avete cominciato da diversi anni io volevo sapere a che punto sono i collegamenti con l'islam altre domande facciamo prima un giro di risposte chi sarà assente di rispondere per primo allora Anna Zella la prima domanda come vivendo concretamente in una comunità tocco con mano queste contraddizioni queste tensioni faccio solo l'esempio molto concreto sono a prescia in questa comunità interculturale da quattro anni ma prima ero a Milano una comunità fortemente di una grande città dove si è avviato il percorso in modo molto forte molto visibile di credenti omosessuali e perciò anche la richiesta alla quale poi il sinodo è giunto in una decisione di benedizione di un percorso comune come io avevo avviato questo gruppo insieme ad altri la richiesta era a me di accompagnare la prima coppia questo ovviamente ha suscitato un forte conflitto nella mia comunità attuale perciò questa contraddizione però ho cercato di vivere cioè di non nasconderla cioè non potevo come alcuni colleghi mi hanno detto non accettare la richiesta di andare a Milano qualcuno mi ha detto come mai l'hai fatto adesso vivi a prescia come fai con le tue famiglie che provengono con una storia con una concezione etica molto diversa ed è anche successo che alcune famiglie sono andate via c'era una forte difficoltà di comprendere come la loro pastora così fortemente dalla loro parte poteva contemporaneamente essere dalla parte o insieme a persone con un altro cammino altre scelte nella vita ma ciò che sta succedendo nella mia comunità è che non tutti non tutte ovviamente che si comprende che anche con posizioni fortemente diverse con anche delle difficoltà ancora che non ci nascondiamo di condividere queste scelte etiche si può convivere si può stare insieme non si deve per forza si deve arrivare allo status confessione si dire voi non siete veri evangelici o voi altri siete arretrati e ciò che ho sperimentato è che l'unica cosa che veramente ci porta avanti non sono più le discussioni teologiche e dottrinali ma l'incontro vero di persone concrete cioè non di tematizzare il tema dell'omosessualità dal scientifico dal punto di vista della medicina ma di fare studi biblici insieme dove partecipano persone molto diverse fra di loro sapendo che sono diverse senza avere il bisogno di tematizzarlo cioè che così è più la concretezza della vita della storia è differente che pian piano passo per passo può credo cambiare qualcosa ma ovviamente non possiamo illuderci che questo sia una via facile sicuramente è la porta stretta della quale ieri ha parlato la pastora Bonafede dunque sulla sulla questione dell'identità di nuovo poi l'islam forse parlerà Paolo di più ma volevo forse prima una sola cosa sull'islam che è legato all'interculturalità cioè quando io credo che una di queste sessioni di formazione interculturale anche con della gente dell'Africa è rappresentato un documentario dove un musulmano egiziano parlava della sua integrazione in Italia e gli africani cristiani delle nostre comunità dicono ma voi non sapete di che cosa parlate nel senso che vivevano anche nell'immigrazione un rapporto all'islam estremamente conflittuale estremamente conflittuale come dire di chiusura io mi ricordo allora questo per esempio non lo dice nel gruppo di plenario ma lo dice nel gruppo più intimo dove non c'è il politically correct dell'intercultura che si dice tutti assieme soltanto questo poi per il resto sulla questione dell'identità io credo che anche lì le situazioni sono diverse allora è chiaro che i valdesi hanno un'identità molto forte nell'immigrazione anche lì non possiamo generalizzare si è citato più volte la gente che viene dal Ghana che viene dalla chiesa metodista del Ghana che ha un'identità fortissima fortissima quasi all'iguale dei valdesi come teste dure cioè di tenere alla loro identità poi ci sono altri che vengono da altre zone per esempio c'è una diversità Marta parlava per esempio a Bologna sono studenti camerunesi che hanno un atteggiamento molto diverso in un certo senso anche con delle evoluzioni culturali diverse abbiamo delle chiese dove abbiamo una forte presenza che viene dalle Filippine che è una chiesa unita dove anche lì è molto diversa poi le chiese sudamericane che anche hanno delle diversità allora lì appunto la questione è il dialogo delle forti identità anche quando il gruppo immigrato è abbastanza numeroso per rappresentare un'identità non so e lì la questione per esempio per gli africani la questione dell'identità etnica è forte se una comunità diventa a maggioranza ghanian i nigeriani non ci vanno più non so se perché ci sono anche delle tensioni lì è da segnalare forse la comunità di lingua francese di Roma che una comunità dove ci sono 14 nazionalità africane e io credo che questo è abbastanza eccezionale di avere assieme tutte queste identità nazionali ma quando i gruppi sono forti le questioni come dire etniche sono forti con delle ricerche di identità molto forte non so se allora io credo che in un certo senso i valdesi potrebbero essere anche preparati a sapere che cosa è difendere un'identità e poi come aprire cioè essendo rassicurato sulla tua identità allora sei pronto anche ad aprirti io credo che questo anche grazie professore Dallier Paolo Naso sì non rinuncio anch'io a dire la mia sul tema dell'identità ma una chiave un po' diversa c'è una chiave comparativa non siamo i primi a gestire questa sfida della multiculturalità all'interno di chiese con una forte identità pensate la Svizzera la Francia l'Olanda il Belgio gli Stati Uniti il Canada certamente con più determinazione le chiese italiane forse anche per la loro modestissima consistenza numerica hanno scelto fin dall'inizio la strada della integrazione all'interno quindi di chiese multietniche come ci diceva la pastora Zell tuttavia il tema di difendere ciò che si è nella storia nei secoli pensate appunto alla Francia o all'Olanda accettando però anche la sfida dell'integrazione quindi mettendosi in un processo dinamico che alla fine cambia sia i nazionali che i cosiddetti immigrati questa sfida è stata una sfida ampiamente raccolta dalle chiese evangeliche sia dell'Europa che del Nord America e da questo punto di vista io credo che ci possa essere anche una fiducia una fiducia nella capacità poi di sintesi di generare anche elementi di novità per esempio c'è un fenomeno interessantissimo un fenomeno interessantissimo che riguarda molto le chiese nordamericane che riguarda quella che potremmo definire una pentecostalizzazione anche delle chiese storiche e la dimensione migratoria ha avuto un ruolo essenziale decisivo in questo processo che punta molto a riscoprire le virtù dello spirito la comunicazione non verbale la dimensione dei miracoli e così via e questi non sono diventati pentecostali sono rimasti presbiteriani sono rimasti metodisti sono rimasti battisti anche se il caso del battismo americano è meno interessante perché c'è una maggiore affinità con il mondo evangelicale quindi da questo punto di vista io come dire credo che si debba guardare con serenità la possibilità di costruire sintesi identitarie che non siano negazioni di quello che si è stato sull'islam ha detto benissimo il professore Dallier esistono delle reticenze sia di ordine religioso nel senso che in Africa è evidente che c'è una competizione cristiano-islamica non irrilevante vorrei dire che ci sono anche come dire però elementi di ordine geopolitico che giocano pesantemente in cui non è tanto il fatto che quello non è cristiano non è musulmano ma il fatto che si vengono si viene cristiani e musulmani da contesti nei quali l'appartenenza religiosa diventa un marker politico molto significativo e anche molto doloroso smusserei però questa preoccupazione dicendo un'altra cosa e cioè il fatto che oggi nelle nostre chiese c'è un tema sentito e agitato con grande forza che è quello della libertà religiosa e io credo che esistano due zone deboli due fasce deboli sotto il profilo dell'esercizio della libertà di religione garantito dalla nostra costituzione che riguarda sicuramente l'islam non c'è ombra di dubbio che oggi l'agibilità politica come si ama dire della comunità islamica l'agibilità dal punto di vista dei diritti consacrati della costituzione è eccezionalmente ridotta non ci sono imam riconosciuti come ministri di culto sulle moschee meglio centri di preghiera sapete bene quali sono le campagne capillari che nei territori vengono condotte per impedire l'apertura di moschee o la costruzione di nuove moschee per chiudere quelle esistenti è un problema del tutto analogo hanno le chiese evangeliche di immigrazione perché per strani effetti come dire alone quell'immagine di estranetà di paura di diffidenza che parte dal musulmano molto evidente molto ben caratterizzata si estende anche nei confronti degli immigrati evangelici su questo bisogna costruire una nuova narrazione comune cioè non sono rari casi in cui invece musulmani e cristiani in Italia provenienti da contesti immigratori diversi siano riusciti a trovare degli esempi di unità in questo senso mi piace citare anche perché c'è qui il direttore il lavoro che da tanti anni fa la rivista Confronti e in particolare la giornata 27 ottobre del dialogo cristiano-islamico che non è una giornata in cui si discute di cristianesimo crocifissione corano rivelazione ma si discute esattamente di queste piattaforme sociali piattaforme dei diritti e su questo io credo che si debba anche reinventare il dialogo cristiano-islamico e anche le nostre chiese possano fare molto per poggiarlo su questo tema fondamentale dei diritti di cittadinanza grazie professor Naso uno dei temi appunto è la legge quadro sulla libertà religiosa come diceva professor Naso anche l'islam non è tutelato in questo senso ci sono chiese che hanno le intese chi non ce l'ha viene riconosciuta con la legge del 29 dei culti ammessi quindi anche la nostra legislazione in questo momento fa buchi un po' da tutte le parti Marta Bernardini voleva ancora aggiungere sì volevo un po' ritornare su questa questione identitaria si è parlato di richiami identitario radici e anche di questo conflitto che ci potrebbe essere tra il modello europeo invece chi arriva da altre altre parti del mondo secondo me i giovani rischiano un po' di essere schiacciati da questa esigenza di definizione identitaria cioè questa ansia di definizione identitaria per cui ai giovani viene chiesto ma ti senti più italiano o più ganese per esempio quindi io penso che dovremmo un po' abbandonare questa polarizzazione per cui sei o di una cultura o di un'altra ma pensare che questi giovani sono qualcosa di nuovo che include non solo la cultura italiana europea o quella dei propri genitori e rielaborano la loro identità in un modo variegato e creativo che neanche noi possiamo immaginare e quindi questa idea di confronto o conflitto tra il modello europeo occidentale e quello per esempio africano dovrebbe essere semplicemente abbandonato e dovremmo imparare noi ad accettare che le identità possono essere più flessibili di quello che che siamo abituati noi magari come valdesi in Italia con una certa storia quindi era solo questo che volevo aggiungere grazie benissimo grazie ad aggiungerla allora se non ci sono altre domande io chiuderei qui la conferenza stampa ringraziando Anne Zell Marta Bernardini il professor Jan Redagliè e il professor Paolo Naso vi ricordo l'appuntamento di questa sera al Tempio Valdese alle 20.45 con la serata pubblica Santa Ignoranza gli italiani il pluralismo delle fedi e l'analfabetismo religioso tra gli ospiti segnalo la presenza ovviamente del moderatore della tavola valdese Eugenio Bernardini l'abbiamo citata prima la ministra Chiang il professor Paolo Naso i giornalisti Gabriella Caramore e Danilo Maria Valli Aldo Maria Valli chiedo scusa e la presidente di Biblia la dottoressa Cini ringrazio Radio Bequit per la diretta ricordo che l'ufficio stampa NEV cura appunto come ufficio stampa tutti i lavori del sinodo quindi per chi volesse informazioni può rivolgersi al numero 021 95 0035 grazie a tutti voi per la partecipazione e vi auguriamo una buona giornata grazie 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 grazie